che cazzo è questa roba che cazzo è sta roba che cazzo è no come ho fatto come si toglie no come ci sono riuscito ma è bellissimo ma come ho fatto ma è spaventosissimo sono in mille luoghi diversi doctor strange ma che aspetta aspetta che chiudo e riapro cosa come ma che no 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 ma che vuol dire fa freddo sul riscaldamento ma non è vero no no ma che cazzo vuol dire no no ti prego mi sei mancato marcolino mi mandi un mega bacino e quindi e quindi dobbiamo fare ma tutta la videocamera è andata a fanculo allora io non ho tanti problemi e voi non è malissimo non è bene ma non è malissimo non è benissimo clemente grazie che mi hai mandato lo screen di qualcosa che già vedo non farmi incazzare scusami scusami che quando parlo con i palermitani sai marco perché hai smesso di seguire tutti su instagram perché tutta la gente che seguivo mi aveva chiesto di seguirla non me ne fotte un cazzo di nessuno oggi ho fatto questo non muori vattene via dalla mia vista ma non me ne frega niente non me ne frega niente se voglio sapere come sta qualcuno vado sul suo profilo e se ho la fortuna di trovarlo pubblico guardo le sue ultime storie guardo i suoi post anche se non lo seguo e lo so che questo creerà scompio nella sua vita come mai non mi segui seguendo le storie perché in generale non mi interessa così tanto nel particolare certo cosa fa il mio amico trobos oggi ma tutti gli altri giorni vaffanculo oggi sono con la barca scopati la barca oh fai una figa con la barca ragazzi ma sto sushi è troppo buono sushi la paura la paura dell'aereo let's go che paura ste gente amore finalmente il papà e la mamma vanno a fare un weekend alla spa questo qua se vede questa reazione qua e mi incontra mi dà un pugno e io che ti rimango cosa non amore e mi raccomando fai la brava papà e mi raccomando fai la bata a non mi raccomando fai la bata ma non mi raccomando fai la cittima come on è steve buon giorno ciao Pronto? Ciao coccolina Ciao Che fai? Live Ah Senti facciamo un figlio? Ehm no Figlia? No Posso darti i miei motivi per volerne uno? Dai Sto guardando una coppia di folli 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 Su internet E loro hanno due bambini Un maschio e una femmina E fanno dei contenuti Che fanno morire Letteralmente Cioè non da ridere Ti uccidono Degrati Cioè biologicamente muori Ok muoi E io sono sicuro Che se io e te facessimo un bambino Col solo scopo Non di amarlo Ma di metterlo online e fare views Oh no Sì Io spaccherei i culi Cioè farei troppo ridere Ma nel senso che Tutte le coppie Ma tutte Ma non del Non dell'Italia Ma del mondo In confronto A la nostra famigliola Ipotetica 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 È stato un discorso È stato un discorso molto convincente Sì ci ho visto un video Dove loro dicono Andiamo a fare la spa amore E la bambina dice È io E loro fanno E tu rimani qua Poi vanno alla spa Aprono la valigia Ma è pesante questa valigia Dentro c'è la bambina che fa Buongiorno E loro fanno E finisce il video C'hai capito? Ho capito Ho capito Eh Eh Perciò Non lo so Ok Pensaci Pensiamoci Vabbè Dai Ciao Ciao Cosa che sono carica Mi ho mai raccontato Quando mi sono ritrovato In mezzo ai maestri Del porno E dell'erotismo italiano Mi trovo All'Etna Comics No Ma le ho raccontate Recentemente Ma a chi A mio fratello Mi trovo All'Etna Comics Mentre facevo Il direttore artistico Per la mia terra E non perché mi danno Un miliardo di euro Per la mia terra E E c'è la caverna di Platone E Dovevo dirigere La 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 sua Ma non so parlare oggi Dovevo dirigere La sua conferenza E E arriva Un tizio Da lontano E mi dice Marco Marco Sei pronto Per la conferenza Sull'erotismo Nell'altra sala E io Certo Non avevo La minima idea Di che cazzo Stesse parlando Fatto sta Che cerco Su whatsapp Erotismo E Qualche mese prima Sulla Chat Condivisa Del gruppo Del gruppo Dell'Eletra Comics Che lavoratore Idiota Che sono Quel tizio di prima Salvo A complemente ragione Che pare Legge raccontata E Non mi ricordo Avevo detto Sì sì Perché cercavano Un host Un host Che per un'ora Parlasse con questi Maestri Dell'erotismo Che cazzo Vabbè Arrivo in questa sala Con tutta Gremita C'erano tutti E La situazione era Che Ero in mezzo A questi Quattro tizi Ed era uno Che era un maestro Dell'erotismo Dagli anni Cinquanta Era vecchissimo Però Parlava di tette Già solo guardare Quelle specie di vecchi Ho fottuto un sacco Nella mia vita Si chiamava Taglietti Il maestro Taglietti Tutti quanti Maestro Maie Ok Ha fatto i disegni Poi c'era questa tizia Con cui volevo fare più amicizia Ma non ho potuto Un holyfanser Che forse conoscete il nome In caso fate le pubblicità Perché sembra interessantissimo Che Disegnava Col suo squirting Lei fa holyfans E fa i disegni Squirtando dalla sua Meravigliosa figa In più Penso sia anche una sui sad girl Era molto Tatuata Molto figo E E l'altra era una tizia Che disegnava Fantasy erotici E l'altro Era un allievo Del maestro Se non ricordo male E anche lui aveva Le sue pubblicazioni Vabbè Non c'entravo Un cazzo Mi siedo Loro non mi avevano mai visto Io non avevo mai visto loro Prendo il microfono Che cos'è l'erotismo Secondo me è amor Tipo tipo Cazzata così Tutti viviamo L'erotismo Ebbene sì Anche chi non vive L'erotismo Vive l'erotismo Perché lo vedi Nei film Lo vedi nei cartoni Mannai a Dio Che paraculo Imbroglione Di merda Che suonano tutti Ragione sul mio conto Porco Dio E poi ho detto Ma non chiediamolo A me Chiediamolo a loro Chi siete Facciamo finta Che non Che non Che non vi conosco Chi siete Tutti si sono presentati Quando dice a un artista Chi sei Squirta Lui stesso E poi ci fa un piccolo disegnino Almeno uno dei quattro Perché Sono molto ecocentici Quindi devi dargli parola Cosa ne pensi Del carbone Bella Marcolone Un bacio Bella Bella Per te Dicono Grazie all'abbonamento E quindi Inizia quest'ora Che poi Interessantissimo Ho scoperto molte cose Di queste persone Dove parliamo Di questa cosa qui E basta E poi me ne vado E il tizio Del mio stand Fa Marco ma complimenti Preparalo Io ho trovato Non sapevo un cazzo Totalmente bugie Almeno la mia intenzione Perché poi ho imparato Un sacco di cose In poche parole La morale è questa La mia morale è Se c'è qualcuno Che squirta disegnando Io devo essere là A conoscerlo La vostra dovrebbe essere Se Dite di sì Pensateci Non tramutatelo in no Con una scusa È meglio È meglio Imbrogliare Con l'atteggiamento Dopo Tuffandosi In quello dove Avete detto sì Che imbrogliare Dicendo No guarda Ho la febbre Quelle cose là Avete presente Parliamo Quel tizio di prima Ah sì Il dente giudizio Ragazzi Se avete parti del corpo Che state perdendo Per un motivo Per un altro Mandatemelo Non ve ne ho mai parlato Ma voglio creare Il fan Sapete Il fan Che è il Che è tipo Il vostro avatar Un unico fan Che vi raggruppa A livello di contesto Di concetto E di idee Un fan Ho già i capelli Di Daniele Inizio da lui Perché Perché lui fu Il mio primo fan Milanese Almeno questo Mi disse Quando lo incontrai Perciò Adesso abbiamo Il dente Perfetto Contattami Su Instagram Dimmi Sono quello Del dente del giudizio Ragazzi Ovviamente Non fate i fake Perché io ci rimango Malissimo Ti do il mio indirizzo Di spedizione O comunque Uno vicino E spediscimi Il tuo dente del giudizio Fano fantasy Lebert Io ho saputo Che arriverà Fino al Alla forgotten city Che non so E sapete Ora senza spoilerare niente E dove muore Eris Avete presente E quindi E io non immaginavo Così tanto Perché questo Era il mio dubbio Non so se sapete Ma for fantasy 7 Quello che abbiamo Giocato nel remake O quello che avete saputo Che la gente ha giocato Nel remake È piccolino Copiato da youtube Cosa Kevins È molto piccolo Migdar Nel primo Nel gioco originale Se non sbaglio Sono le prime Dieci ore 15 ore Il gioco è molto lungo Soprattutto se vuoi fare Le secondarie Che tempo fa Le secondarie Non erano Secondarie Oggi le secondarie Sono Vai questo minuto A prendere questa cosa Ora ce l'hai Tempo fa Le secondarie erano Gioca altre 16 ore E ottieni una cosa Che poi non ti serve Però puoi dire ai tuoi amici Che l'hanno fatto Le secondarie Che tu le hai fatte Così ti vogliono Più bene Ma poi scopri Che non vale tanto Il loro bene Perché questa gente È cresciuta E continua a parlare Del passato Che è bello Però basta Ora basta Per sempre No Ma tornando a Forgotten City Ok Ci sarà un sacco Di contenuto In questo rebirth Già il trailer Era pazzesco Avete presente Quei trailer Che non vogliono Farsi vedere Questo trailer Si vuol fare vedere E mi è piaciuto molto Non vedo l'ora In più Dopo che ho parlato Con Elena Vogelita Questo finale Un po' Quasi di merda Almeno a livello estetico Di merda lo è Perché tu che combatti Contro il destino Fottiti Idiota Questo Sephiroth Che sa Che c'è un meta Una meta narrativa E che addirittura Sa degli eventi Di Advent Children E del finale Dell'anime Che sa tutto E che vuole Sovvertire la sua fine Perché sa che finirà A me piace un sacco E se devo sorbirmi Un boss di merda Che nel gioco originale Non c'era A me va bene E ha ragione lei Ma ha convinto lei In questa cosa qua E sono abbastanza d'accordo In più amo Io non consiglierei mai Un Final Fantasy VII A un ragazzino Che si vuole approcciare Ai videogames E agli RPG A meno che non sia Così tanto innamorato Del brand Che gli dico Ok vattolo a scoprire Ma non glielo consiglierei mai Perché è un gioco Ultra datato Rompe i coglioni Gameplay del cazzo I remake Sono una buona Scusate Marco vorrei avere Una tua opinione Su come preparare Il sushi di piede Ma Non so se la quantità Di callo basti E se la sua fermentazione Sia abbastanza Ti ho inviato le foto Su Instagram Per favore Voglio provare Quel sashimi di piede Ascoltami molto bene Su Amazon Queste cose qua Le vendono a due a due Tu comprane due In modo da averne quattro Ok E lascia perdere la pesca Non sa di pesca Non sa di pesca All'olfatto intendo Sa di Industria E quello che ho fatto io È stato questo Lunedì Perché inizia la settimana Prendi la settimana Come metrica Lunedì Mezz'ora di acqua caldissima Ai piedi Li togli Un'ora con questi Li togli Mezz'ora nell'acqua calda Stop L'indomani Mezz'ora nell'altra calda Stop L'indomani Di nuovo Stessa cosa L'indomani Acqua calda Stop Poi questa cosa Per due giorni Io l'ho fatto per tre Ma è terri E ieri ho mangiato Un sacco di piedi Mi ha preso Martina Perché stavo male Cerny Ciao Marco Ciao Mi ha preso Martina Perché stavo male Ve l'ho detto Stavo male da qua Ciao Faride E sono andato a casa sua E poi sono stato meglio Abbiamo fatto l'amore Quella cosa che solamente I figli fanno E io sono figo no? Il pisello non faceva male Nonostante il tattoo E poi l'è stato addormentata E io mi sono toccato i piedi E notavo che Erano loose Come si dice? In italiano erano Cadevano E ho iniziato a pillarli Per una sera intera Ragazzi Non ho fatto la foto Perché ero dentro Al mood E quando sei al concerto Non esci fuori il telefonino Faccia di merda! Ma tu mangi il piede E c'erano stracci Di piede così E ripeto Io l'ho fatto solamente Due volte Tre volte Ed è tantissimo Cioè il piede Staccato tutto La cosa brutta È che Masticandolo Lo sputavo Perché si sentiva Che era chimico Di qualcosa Del footpill mask Perciò Però vi giuro No ma Facevo Ho fatto un'olimpiade Con me stesso Vediamo chi riesce A fare il pezzo più grande Io Ero solo Fantastico Ma tipo Tre ore Così E con l'altro piede Davo carezzino Al gattino Che dorme vicino a me Ero in trance E se l'avessi saputo prima Del PL mask Avrei fatto così Per tutta la vita Invece di ferirmeli Perché io arrivavo Pure al sangue Con i denti Mentre invece Questa qua Non fa male pillarlo Anzi È la sensazione Di quando ti bruciacchi al sole E lo togli Però tantissimo di più È più profondo Tutte le parti sporche E callose del piede Se ne vanno È meraviglioso Terremoto ora a Napoli Yes Vediamo Dai 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 7.5 7.5 Dai 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 Oh terremoto Scossa di magnitudo 4 Scossa di magnitudo 4 Non ho sentito niente io Quanto sono rimasto male Nel 2004 Quando sono passati 100 anni Dal terremoto Che ha distrutto Messina Quanto sono rimasto male A tifare Per madre natura Ogni giorno Madre natura Madre natura Niente Tutto il 2024 Un bijou Di zolle 908 Era il 2008 Perché il terremoto di Messina Nel 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 1908 Vera Alexa Che mi sai dire Del terremoto di Messina Il 1908 Tradotto da Worldatrust.com Il terremoto di Messina È stato causato Da una frana Sottomarina Che ha inniscato Un terremoto Che ha ucciso Circa 123.000 persone A Messina In Italia Il 28 dicembre 1908 Scherzo Terribile Quando muore Un sacco di gente È sempre terribile A meno che non sei una di quelle persone Che vuole Che muoiano tante persone E io non voglio che muoiano Tante persone Ma un 114 Non Non vedo perché no 120.000 È tantissimo 120.000 persone morte È Tutta la città È E brucia il grattacielo Alexa Quanti abitanti ha a Messina Nel 2019 La popolazione a Messina Era di 233.000 persone E scusa A quei tempi Alexa Quanti abitanti Aveva Messina Nel 1900 Da Treccani.it All'epoca Della sua missione Al regno Il comune di Messina Contava 103.000 abitanti 112.000 Nel 1871 126.000 Nel 1881 153.000 Nel 1901 A quest'ultima data Al centro urbano Non toccava ancora I 100.000 abitanti 57.000 Essendo quelli Distribuiti Nei dintorni No Eravamo così Vicini Madre natura Porco Dio 20.000 Ne sono rimasti Ma che cazzo Ma che cazzo fai Dai C'eri a tanto Così E poi c'è questo Bellissimo motto A Messina Rutta per rutta Rompemula Tutta E non hai neanche Voluto Punirti al Patriottismo Pazzesco 100 Erano in 30.000 Erano rimasti Comunque 150.000 persone Ne muoiono 120.000 E i 30.000 Tipo fanno E ora Cioè che si fa In 30.000 In una città Niente Fuck lobsters Fuck lobsters Gravissimo Fu il numero Delle vittime Messina Che all'epoca Contava circa 140.000 Ne perse Circa 70.000 Abbiamo dei Dati un po' Discordanti Marco contava Anche i morti Di Reggio Calabria Quindi 70.000 Erano 140.000 Messina E scusa Ah 100.000 Fra là e là Certo Ficina